Siamo in una laguna, non è una laguna, come è che si chiama Adele? Una palude dove c'è praticamente questo ponticello che ci tiene su a questa palude perché sotto qui è tutto acquitrino e siamo con il comitato tecnico scientifico, quello più giovane. Allora ci dico un po', c'è qualche elfo, qualche fata, ha visto qualcosa? No. E ci spieghi allora? Perché le cose vivono un po' come nelle case. Ah, nelle case, tipo case? Sì. Tipo questo qua potrebbe essere un appartamento, giusto? Sì. Ah ecco, è vero, è vero. Ma adesso la strada ce la ricordiamo perché siamo là, il comitato tecnico scientifico, la mamma e Ginevra sono andati da una parte e noi siamo andati dall'altra. E dove siamo? C'è da qua. Ma la strada la sai? Io non me la ricordo. È di là. Di là dove? Vicino a quel cartello. Dove? Vicino a quel cartello l'oro. Ah ok. Di là, con il ponticello l'oro. Ah, dove fai il ponticello? Sì. Ah già, è vero. Comunque secondo me qui se si sta zitti qualcosa salta fuori, vero? Sì. Tipo con il grillo, oppure un aletto, oppure una fata. È vero. Cioè, bisogna stare attenti qua, eh. Perché? Allora, saliamo su di qua perché lì è bagnato. Qua. Ok. Poi mi dica. Lei che sta alla strada, mi dica dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare sul ponticello lì. Sul ponticello? Sì. Ok. Aspetta, vediamo qua. Vediamo qua. No, vediamo i fiori. I fiori. Sì. Vediamo i fiori che possiamo trovare. Allora, ce le spieghi? Allora. Quelli sono alcuni che, 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 che sono per la natura. Ok. E quelli sono invece per le piante o più. Ok, ma sono comestibili? Si possono mangiare? No, non si possono mangiare. Sono dei frutti. Ah, ma il nano lo mangia? Lo può mangiare il nanetto? Sì. Ah. Perché sono i fiori per i nani. I fiori per i nani. Vedete? Vedete? Questo qui, praticamente, è una specie di soppalco dei nani. Sottoabitano, probabilmente. Da giro. No, l'idea sto scherzando. Questo qui è una piattaforma dove? Dove si può, si può. Adele, attenta, perché se cadi, non è che puoi. Attenta. Ok. No, ok, niente, ok, dammi la mano e qua. I nani, i neri. I nani, i neri. Una specie di palude. Sì, che vivono delle case oppure delle cave piccoline. È vero. Ma cosa mangiano? Ci dica un po' cosa mangiano? Mangiano i fiori. Sì. Tutto mangiano. Tutto. Sì. Non lo sapevo anche. Sì, fa anche l'erba. Ah, l'erba no? No. Perché non gli piace. Non gli piace. Non gli piace. L'hai visto uno? No. No. Niente. È solo un grillo. È solo un grillo. Se vediamo il cappellino degli elchi? Eh, le lo chiamiamo. Perché vedete, guardate, ad esempio, qui, si nota bene. C'è la... Ma cosa fai? Dove? Si nota bene. Qui, praticamente, c'è. Guardatevi. Lì c'è l'acquitrino. Questa è una specie di palude. Attenta signora. Guarda, 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 guarda qua. L'acqua. È vero? Mi dia la mano. Signorina Silvani, mi dia la mano. Grazie. poi se cadi comunque tutto qua e questo è quanto saluti da vicino a ponte di legno ok saluti ciao ciao ciao